Ciao a tutti ragazzi, eccomi qua, sono rientrato dalla, non so se avete visto il pre-TG, la processione, questa è la foto che vi ho fatto vedere prima perché adesso l'abbiamo fatta col buio, col buio inteso non con le ore, non con la luce del giorno e devo dirvi che sono anche abbastanza addolorato qui, ma eccomi qui per un nuovo appuntamento con ResinTime il TG dei motori, ci tenevo tantissimo a fare questa puntata che veramente pernea su due cose, uno ancora Red Bull, due gli aggiornamenti Ferrari e poi c'è un terzo pilastro che viene fuori a fine puntata che riguarda i piloti, dunque faccio due premesse, uno spero che la messa a fuoco sia ok perché a differenza degli altri video adesso ci sono le luci artificiali, seconda cosa, se sentite dei botti, non ho idea se si sentano o meno, sono i fuochi d'artificio e per me non è assolutamente un sacrificio non assistere allo spettacolo pirotecnico perché come sapete tutti a me i fuochi d'artificio non mi piacciono, per diversi motivi, fanno male agli animali, costano tanto, si potrebbe spendere, io sono amante delle, scusate questa piccola parentesi, fiaccolate e musicali, però è un mio parere, ognuno ha i suoi gusti quindi chiudiamola qua. Invece andiamo avanti con la puntata che veramente oggi si prospetta molto frizzante, frizzante perché sono arrivate ma tante, tante domande, tanti messaggi sia sul video di ieri che sui social riguardanti tutti un video che è uscito su internet che è quello di CronoGP. Allora facciamo una premessa innanzitutto, con questo video non voglio assolutamente mettermi in contrapposizione a ciò che dice CronoGP che tra l'altro ha detto delle cose più che sensate. Oltretutto, loro sono degli stra-professionisti, nulla a che vedere onestamente con noi, cioè noi stiamo iniziando ora, poi ci mettiamo soprattutto la passione, dico noi, poi non lo so perché dico noi, comunque sì, effettivamente siamo un piccolissimo staff, saluto Giacomo, tutti quanti e questo è uno. Poi di Fabiano Vandone onestamente ho una stima incredibile, mi ricordo ancora quando da piccolino lo cercavo i box, lui correva in formula 3000 e mi faceva fare l'autografo, quindi ben lungi da me l'idea di mettere questo video in contrapposizione con il suo e di fatti non lo farò. Però voglio rispondere alle tante domande che ci sono state andando un po' a completare ciò che abbiamo detto ieri. Quindi partiamo da una domanda che ho dovuto scegliere che rappresenta tutte, diciamo che abbiamo eletto come rappresentante di classe Giuseppe Moretti 9777. Allora lui dice questa cosa qua, ciao Nicola guarda la puntata di Chrono GP spiega un particolare della Red Bull che tu avevi accennato molte volte, sei un veggente ok. Allora in realtà io l'avevo accennato ma non solo riguardo alla Red Bull, è vero ne abbiamo parlato tante volte, abbiamo visto come ci sono due modi per far flettere ad oggi le ali, uno è il modus della Ferrari, hanno lavorato sulle pelli in carbonio nella maniera di intrecciarle e incollarle e hanno generato un flap, anzi un elemento flessibile terzo e quarto che con l'andamento, cioè più la macchina va veloce e più tende a corricarsi e questo è un discorso. Poi però vedevamo come alcuni team lo facevano molto di più, per quale motivo? Perché appunto utilizzavano alla base del musetto o dietro nell'ala posteriore degli elementi gommosi, in poche parole, l'elemento dell'ala, il primo, il secondo, il terzo, il quarto profilo o elemento, si andavano a inserire in un innesto gommoso, cioè in un innesto, in una placca fatta di materiale gommoso che poi in alcuni casi era addirittura buona parte della punta del musetto e quindi con la velocità ruotava indietro e quindi faceva questo movimento e questo e noi dalle telecamere vedevamo che si abbassavano tantissimo ma proprio tanto. Però riflettiamo su una cosa ragazzi, infatti questo video è un video di riflessione. Riflettiamo su una cosa fondamentale, in assoluto all'anteriore la flessione maggiore l'abbiamo vista in casa Mercedes. Poi abbiamo saputo pure che Aston Martin nella prima parte della stagione lo faceva parecchio sull'anteriore e la FIA gli ha chiesto di cambiare proprio l'ala e da lì loro un pochino si sono persi per poi tornare al loro livello a Zambord, ok? Solo che da quel momento in poi hanno avuto un problema alla tappa successiva ovvero il drag perché a Zambord hanno sistemato parecchie cose però la velocità di punta a Zambord non è un problema, a Monza sì e difatti si è visto come a Monza sono andati un po' indietro perché se non puoi flettere con l'ala che tra l'altro anche lì a Monza c'era la piattaforma della FIA e questa cosa si è discussa pochissimo e Aston Martin aveva qualche problemino in quel settore da quello che ci dicono gli uccellini di bosco. Quindi che cosa va a succedere ragazzi? Va a succedere che se tu fletti di meno un po' aumenta il drag sul dritto e quindi sviluppi meno velocità massima. E questo concetto lo prendiamo e lo mettiamo da parte. Però in realtà ragazzi le ali le facevano flettere in tanti e non me lo dico io, l'avete visto voi in tv. Aston Martin, Alpine, Mercedes, Red Bull. Queste, quelle, quei team che lo facevano, quelle monoposto che lo facevano di più. Ok? Invece poi c'erano team a cui flettevano le ali tipo la Ferrari che lo facevano molto meno. In realtà abbiamo visto delle inquadrature in questo Gran Premio della Red Bull che aveva ancora una flessione delle ali anteriori ma che era dovuto solo appunto all'ala che va a caricare l'elemento, non al fatto che ruotava su un possibile piano in gomma. Però questo discorso fatto all'anteriore, fatto al posteriore, possibilmente come abbiamo spiegato noi in uno dei video ragazzi, a dispetto di chi dice che questo discorso qua era impossibile, no, non è impossibile. Difatti uno dei tecnici team Goss della FIA lo ha visto, dava un certo vantaggio ma sul dritto, ma sul dritto, cioè quando aumentavano le velocità. E su questo non c'è dubbio. Ma tutti quanti avevano questo vantaggio. Noi a Singapore che cosa abbiamo visto? Ora arrivano le immagini, finisce il mio ragionamento. Abbiamo visto che Mercedes, Aston Martin, rispetto a dove erano a Zambord, lasciamo perdere Monza che è una pista di motore, rispetto a dove erano al Gran Premio prima, hanno fatto un passettino indietro verso la Ferrari. Red Bull, di passi indietro verso la Ferrari e verso anche le posizioni dietro la Ferrari, ne ha fatti più di uno. Quindi non può essere tutto collegato alle ali che flettono, ci deve essere qualcos'altro. E andiamo qui a entrare con le immagini. Perché? La domanda è questa. adesso, in una pista dove ragazzi, la velocità massima a drs chiuso era di 303 km orari e 303 anche per Red Bull. Quindi Ferrari e Red Bull avevano la stessa velocità di punta a drs chiuso. A drs aperto più o meno funzionava uguale. Avevano la stessa velocità di punta, 3,15 se non sbaglio. Quindi non parliamo di velocità massime esorbitanti. Ok? Se tu vai a innescare il porpoising lo inneschi, ad esempio, per una fetta molto ristretta della pista, no? Perché parti da una certa velocità, arrivi a un picco non altissimo e poi non plani a quella velocità, ma devi frenare altrimenti arriveresti ai canonici 330 a drs chiuso. Quindi c'è qualcosa che non torna, ragazzi. E cos'è questo qualcosa che non torna? L'altezza da terra. Cioè, un conto è avere delle ali flessibili. Difatti, in questa gara il DRS Red Bull non è stato eccezionale. Ok? Ma un conto, ma questa non era una pista da drs. Guadagnavi poco col drs. Pochissimo. Lo faresti molto di più a Spa. A Monza no, perché il profilo all'area è molto ridotto. Ma in una pista come Spa il DRS si sente all'infinito. Qui era una pista da velocità di percorrenza, di curve medie. C'è una situazione dove, ragazzi, Red Bull è andata sempre una spanna sopra gli altri. Ma veramente una spanna sopra gli altri. E quindi la domanda è sempre quella. Perché Red Bull viaggiava con le altezze minime da terra così elevate rispetto non solo a se stessa, ma rispetto al passato? E qui la risposta è semplice. Non potevano scendere di più. Perché se scendevano di più, ragazzi, andavano a rovinare lo skid. alle velocità massime, andavano a rovinare il plank, il finto legno che c'è sotto. Basta. E questa è la risposta. Perché, ok, hai le ali flessibili, non ce l'hai più, va bene, ma nessuno ti evita di andare basso con la macchina. Non te lo evita proprio nessuno. Perché, alla fine, se tu vai un po' più basso, hai più velocità di percorrenza nelle curve. E di conseguenza, ragazzi, voi direte, ok, però posso offrire di porpoising. Ma questa è una pista dove il porpoising si presenta, ma veramente poco. Loro erano non un po' più alti del solito, molto più alti del solito. Tant'è che cosa hanno fatto? Tra il venerdì e il sabato, per scendere, per abbassare un po' più la macchina, hanno fatto ciò che Ferrari ha fatto tutto l'anno. Hanno irrigidito le sospensioni, con il problema, poi, di avere una vettura difficile, e Perez lo ha sentito, è una vettura aggressiva sugli pneumatici. E qua mi viene incontro questa domanda. Ciao Nicola, la tua puntata di ieri riguardo alla Red Bull mi ha fatto venire un dubbio. In che modo la flessione parziale del fondo darebbe quel vantaggio, tutto sommato, non eccessivo in qualifica, mentre in gara fa letteralmente volare la macchina, che sembra di un'altra categoria. È una questione di peso della vettura che incide? No, mi farebbe piacere, mi farebbe davvero piacere se ne parlassi in una puntata, un abbraccio. Nico TWC Semplicissimo ragazzi, la risposta sta proprio qui, nel fatto che se tu non puoi più abbassare perché prima facevi flettere il fondo, il plank, e quindi non lo andavi a consumare, permettendoti delle altezze da terra ridicole rispetto agli altri che non capivano come mai Red Bull, poi l'hanno capito ed è arrivata la soffiata probabilmente, come mai Red Bull non consumasse così tanto il plank, lo skid. La risposta sta qui. In qualifica tutti gli altri, Ferrari in testa può contare su un set di gomme nuove. Quindi tu cosa fai? Tiri, sfrutti la gomma nuova e il distacco, il delta si accorcia. Invece in gara cosa devi fare? Devi gestirla la gomma, gestire lo pneumatico e di conseguenza sei costretto a non andare al massimo. Se invece tu in gara hai una vettura che comunque viaggia sui binari perché sviluppa tanta tenuta grazie all'aerodinamica, grazie al fondo che viaggia bassissimo rispetto al piano dell'asfalto, allora a quel punto lì le tue gomme ne risentono meno perché sono costrette a lavorare meno perché tutto il lavoro lo fa il telaio, il telaio scusate, lo fa la vettura attraverso l'aerodinamica e quindi le gomme come se vanno un po' in vacanza. Ma vi ricordate ragazzi Miami, ne ho parlato ieri, 40 giri e passa su un set di gomme arde. Qui dopo 20 giri è entrata la safety car, Vestappen era davanti, si aveva riuscito a ritmo, poteva arrestarci, invece lo hanno superato tutti come se stesse guidando una AS, come se stesse guidando un Alfa Tauri, una vettura di secondo piano proprio perché andava sul ghiaccio, aveva già problemi di usura pneumatici. Questa è la verità ragazzi, questo è emerso da questo Gran Premio. Poi il prossimo saremo a casa della Honda, di solito ultimamente i motorizzati Honda hanno fatto una gran bella figura a casa propria, quindi potrebbe diventare un'altra storia per una miriade di motivi che vi ho elencato ieri e non vi sto a elencare oggi. Però ragazzi non può essere solo un discorso legato al coricamento dell'ala, ci deve essere qualcos'altro, ovvero che cos'è questo qualcos'altro? La non possibilità di utilizzare più il materiale gommoso nel fondo in maniera estesa, quindi non c'è più possibilità di evitare con un magheggio il consumo del Planck e quindi di viaggiare molto molto bassi. A quel punto lì Red Bull ti fa vedere queste altezze e quindi poi che cosa succede? Succede che per provare qualcosa di diverso addirittura Max Verstappen hanno dato meno carico all'anteriore e poi addirittura hanno innalzato un pochino le pressioni della vettura per evitare, ragazzi, le pressioni degli pneumatici della vettura, per evitare i possibili consumi dello skid. Cioè vi rendete conto come hanno affrontato in Red Bull questa tappa? In questo modo. Sì perché Max Verstappen aveva delle pressioni un filino più alte. Quindi alla fine del discorso quello fa un po' ma il grosso grosso è il non avere più l'opportunità di poter viaggiare bassi e quindi fare in curva ciò che volevi. Tant'è che se andate a guardare le velocità di percorrenza delle varie curve Red Bull non eccelle più. Anzi è indietro ed è costretta pure ad anticipare il punto di frenata proprio per non portare troppa velocità dentro la curva perché non hanno tenuta. La pista di Singapore è una pista dove le vetture tendenzialmente tendono a sottosterzare. Oggi Giacomo Rizzitelli mi faceva notare mai visto il testacoda di Perez. Quanto strano è stato. C'è tutta una serie di cose che in questo Gran Premio non ha quadrato. A Suzuka, ripeto, potrebbe cambiare completamente la storia ma quello dobbiamo aspettare la gara per vederlo. Andiamo avanti con la puntata. Ferrari, innanzitutto ci tengo a sottolineare che è rimasta al suo livello. Ha sistemato il setup come ho detto ieri ma è rimasta al suo livello. E qui apriamo una grande parentesi perché ha sistemato il setup grazie alle prove di Fiorano. Ma quelle prove sono state utili per tante cose. Non solo per sistemare l'equilibrio che c'è tra avantreno e retrotreno quando questi due sono a massimo carrico aerodinamico. Sono serviti anche ad altro. E quindi Ferrari tra l'altro non ha dovuto cambiare niente di tutto ciò che aveva perché era appostissimo. Quindi in teoria è una delle poche vetture regolari che c'erano dalla A alla Z. Però adesso per Suzuka che cosa ci si aspetta? Che è una pista totalmente diversa. Una pista che presenta curve dove la Ferrari soffre. Ha sofferto tutto l'anno. Quindi mi aspetto le altre vetture un po' più avanti. E la Ferrari cosa farà? Si è parlato, ve ne ho parlato tanto e anche abbastanza un bel po' di giorni fa si è parlato tanto del nuovo fondo. Questa è una foto dimostrativa che porterà a Suzuka. Oggi se ne parla parecchio in giro. Doveva esserci già a Singapore poi non c'è stato ed è stato deciso perché più adatto in teoria a quel tipo di lavoro di portarlo appunto a Suzuka. Però ragazzi allora diciamo che il fondo in teoria verrà portato e se viene portato è sicuro che venga provato ma non è detto che verrà utilizzato. E questa è assieme, cercate di capirmi bene perché qui devo pesare le parole, una notizia buona e allo stesso tempo una notizia meno buona. Da un lato come notizia buona c'è il fatto che come dire se non mi è usato è perché c'è un perché in gara parlo. È difficile esprimermi in questo momento vi chiedo anche umilmente scusa. Allora la notizia buona, ecco mettiamola così, è questa che a dispetto di come si presenta davanti alle telecamere certe volte con delle sparate incredibili dopo gare negative. Vasser a Maranello sta facendo un gran lavoro soprattutto con gli ingegneri perché lui stesso lo è e gli sta attaccato qua proprio attaccato qui alle orecchie e di conseguenza li spinge parecchio. Spingendoli parecchio vengono fuori determinate cose che attenti torneranno molto molto utili in futuro. Quindi l'aggiornamento arriverà ma da un lato c'è la possibilità che si facciano degli step in avanti ma c'è anche la possibilità che venga preso e messo da parte. Punto, basta, finito. Poi ai posteri l'ardua sentenza. Ho sudato per spiegare questo concetto ma meglio di così purtroppo non posso farlo. Però vi do un'altra buona notizia che riguarda o potrebbe riguardare la Ferrari magari nel prossimo futuro perché diciamo che quello che abbiamo visto con l'Alfa Tauri per Red Bull perché hanno portato un qualcosa che servirà alla Red Bull del 2024. Presto potremmo vederlo anche con la ASS. Quindi aspettatevi buone nuove se Dio vuole da questo punto di vista perché potremmo avere delle cose poi utili alla comunità. Andiamo a un'altra domanda. Ciao Nicola, Eugenio Dionisio De Martino. Non ho capito perché non hanno richiamato Leclerc quando verso la fine Russell ha pittato. Non avevano più gomme? Ragazzi, no. La scelta è stata giusta e vi spiego perché. Allora, Leclerc era dietro, ok? Gli hanno detto opposite Hamilton. Hamilton è entrato, lui è rimasto fuori. Aveva dieci secondi di vantaggio da Hamilton e da Russell, dalle due Mercedes, quando queste sono rientrate in pista. Anche perché Leclerc non potrebbe entrare subito, in quanto lui è passato e quindi anche le Mercedes che erano davanti e in quel momento lì hanno aperto la corsia dei box. Quindi non c'era l'opportunità di fare quella mossa per primi, un giro prima. E allora dovevano accodarsi alla strategia della Mercedes. Però Mercedes è entrata, quindi se tu entri a prescindere sei tanto dietro, rimani dietro. Invece se tu rimani fuori hai due opportunità. Uno resistere se non hai troppi problemi col motore e lui ce l'aveva perché non aveva problemi di gomme. Poi puoi anche far rallentare il ritmo di Russell in rimonta e lo ha fatto perché in due giri gli ha fatto perdere circa due secondi e mezzo che poi sono tornati utili alla fine. Quindi strategia giustissima. anche lui vi a radio ha detto sono d'accordo con voi con tutto quello che avete fatto. E questa è un'altra cosa. Poi sempre Leclerc mi avete detto è arrivato proprio pochi decimi davanti a Verstappen. Ha confermato che ha semplicemente portato la macchina a casa perché c'erano dei seri problemi di riscaldamento, anzi di surriscaldamento al motore. Infine voglio chiudere la puntata con una preghiera. Allora ragazzi presto arriverà l'annuncio del doppio contratto dei due piloti Ferrari. Se devo dirvela tutta uno già da mo' che ce l'abbiamo, l'altro a meno che non cambi qualcosa negli equilibri ma non credo e l'altro è lì per essere stipulato. C'è in Formula 1, non so se l'avete notato nei team più eleganti che tengono a entrambi i piloti una sorta di eleganza appunto non trovo altre parole non mi voglio dilungare nel comunicare i contratti nello stesso tempo dei due piloti. È una forma di rispetto verso i propri piloti. Avrei potuto fare due puntate per quanto siamo andati lunghi. Però raga mi fa male e sono sicuro che faccia male anche ai piloti e anche alla squadra vedere che se una Ferrari vince c'è gente tifosa della Ferrari scontenta che si lamenta di questo o di quell'altro pilota. Cioè ragazzi dobbiamo, alla fine anche a me piace più uno che l'altro. Però se Sainz ha fatto una bella gara e ha vinto ne dobbiamo gioire tutti. Leggere certi commenti sul canale che purtroppo li ho lenti sono ora, cioè mi fa male perché ragazzi la situazione di Monza era diversissima perché a Monza i sorpassi sono facili, qui no e quindi ti conviene fargli prendere DRS a quello che c'è dietro. Monza no. È un altro discorso e quindi accontentiamoci intanto di ciò che è arrivato ed evitiamo di fare polemiche sui due piloti. È meglio uno, è meglio l'altro. Sono due piloti che vestono la tuta rossa e se noi amiamo la Ferrari dobbiamo rispettarli entrambi. Poi ovvio possiamo essere più contenti quando vince uno rispetto a quando vince un altro. Questo fa parte delle cose umane normali. Però ragazzi veramente vi dico andiamoci come dire piano, quello piange, quello ride, ha vinto una Ferrari. Questa è la cosa che conta. Punto. E poi possiamo freggiarci del merito di aver interrotto la striscia di vittoria della Red Bull. Poteva farlo chiunque, l'ha fatto la Ferrari. Da Nicola Casino e dalla Selezione Nazionale dei Piloti è tutto. Mi scuso se il video si è dilungato un po' però in certi momenti ci tengo a farmi capire bene. Vi prego di lasciare un like, un commento, condividere il video sui vostri social, attivare la campanellina e iscrivervi se non l'avete ancora fatto. Ciao, ci vediamo domani. Io esco che è festa. Ciao.